buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video del nostro canale oggi parleremo di Vora Island di questo sito che è votato già nel CoinMarketCap al prezzo di 0,03 dollari ed è un sito nel quale ci sono certi avere accesso a tanti giochi, è veramente una serie di diversi giochi iscrivendosi qui, potete cliccare qui per il Vora account login ed è utilizzato da più di 50 milioni di utilizzatori nel mondo, ci sono tanti tipi di giochi, island games, ci sono sì, ci sono veramente tanti, potete vedere tanti tipi di giochi diversi in diversi settori inoltre nel sito c'è la possibilità di poter scaricarlo attraverso Google Store oppure l'App Store questo è per quanto riguarda un po' la principale schermata, inoltre si può cercare qui i principali giochi per i giochi per i quali stai interessati, qui per il portfoglio come funziona nel livello del sito di Vora Island e per quanto riguarda il prezzo, il prezzo e i principali dati nel mercato, il prezzo attuale di oggi è nello 0,021, c'è una diminuzione del meno 1,75% ed è abbastanza negativa per quanto riguarda il posizionamento nel CoinMarketCap, la posizione è la 355esima posizione per quanto riguarda questo grafico possiamo vedere i principali dati a partire dal 18 marzo 2019 al 22 ottobre 2020, possiamo vedere in arancio il prezzo Bitcoin di oggi che è del 0,0000002 Bitcoin, in euro è del 0,021 euro e il prezzo del mercato si eleva a più di 17 milioni nel market cap, questo riguarda le informazioni di oggi all'ora attuale delle di 15 e 34 UTC, per quanto riguarda i principali dati, inoltre possiamo vedere che per il momento il prezzo alla valuta euro rimane superiore, è sempre rimasto superiore, ci sono stati dei leggeri cambiamenti nell'aprile 2019 ma per tutta l'annata del 2020 è sempre il prezzo in euro sempre stato superiore rispetto al prezzo in Bitcoin, per quanto riguarda le principali informazioni, il ROI di Vora è negativo per il momento al meno 54,75%, come vi ho appena detto la posizione nel mercato si trova alla 355esima posizione, per quanto riguarda il prezzo più alto è stato registrato il 9 aprile 2019 ed è stato dallo 0,090, il prezzo più basso di sempre è stato registrato il 18 gennaio 2020 ed è stato dallo 0,0052, il prezzo più basso e il più alto è stato dallo 0,061, quindi non male come risultato e il più basso è stato dallo 0,0052 nelle ultime 52 settimane. Per quanto riguarda il più alto delle ultime 24 ore è stato dallo 0,022 euro e il più basso è stato dallo 0,021 euro. Per quanto riguarda l'apertura e la chiusura c'è stata un'apertura dello 0,022 euro e una chiusura dello 0,021. il risultato di ieri è stato negativo, una diminuzione del meno 2,06 per cento e il meno 0,0004 quasi 162 euro e il volume di ieri in euro è stato di 677.685 euro. Questo è per quanto riguarda un po' il cap del mercato potete vedere qui le principali informazioni, potete vedere il volume delle 24 ore, il rifornimento circolante di Bora e il rifornimento totale. Quindi queste sono state presentate le principali informazioni riguardanti Bora a livello del CoinMarket, abbiamo visto un po' il sito come funziona, i principali giochi a cui potete avere accesso, sapendo anche che ci sono più di 50 milioni di utilizzatori che ne usufruiscono nel mondo intero. Spero veramente che questo video sia stato utile, che vi sia piaciuto e speriamo di rivedervi presto nel nostro canale. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!